Dal Vangelo secondo Giovanni usciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne beve il mio sangue e dimora in me e io in lui. Come il Padre che ha dato la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga a Cafarnau. Grazie a tutti.